Il corso professionale di Accademia Catacloa ha durata triennale con frequenza giornaliera. Le ore di lezioni si suddividono in due dipartimenti, quello coreutico e teatrale e quello atletico-acrobatico. Per rientrare in Accademia Catacloa non sono necessarie delle competenze già acquisite. Fondamentali sono invece capacità di stare nel lavoro e nella fatica, focalizzazione e un'apertura mentale che permetta veramente una grande crescita. Questo è un luogo, uno spazio di condivisione dove ragazzi che arrivano da tutta Italia e anche dall'estero trovano la loro strada. Le amicizie, i legami che si creano nascono proprio dalla condivisione del sudore, della fatica, del fatto di essersi accompagnati e sostenuti uno con l'altro. Mi chiamo Giulia, ho 26 anni e vengo dalla Sardegna. Mi chiamo Simone Paris, 29 anni, vengo dalla Svizzera, Lugano. Mi chiamo Benedetta Rizzi, vengo da Padova. Sono Stefano De Luca, sono originario di Roma, ho fatto tutti gli studi a Milano. Sono Carolina Cruciani, vengo da Sisi, Lumbria. Sono Cristina, ho 21 anni, quando sono entrata in Accademia però ne avevo 18. Sono Francesca, d'Agostino, ho 25 anni, vengo da Venezia. Mi chiamo Alice, ho 20 anni, arrivo dalla provincia di Varese. In Accademia ho trovato una seconda famiglia. Totalmente diverso da quello che avevo affrontato prima. Il primo anno è una sorpresa, non sai a cosa andrà incontro. Il secondo anno è faticoso, è un momento di rodaggio. E al terzo anno ci si inizia a divertire, è solo l'inizio del terzo anno. Il corpo si è costretto a lavorare su se stessi sempre, costantemente. E bisogna essere quindi onesti e mettersi in gioco. Quando mi muovo sto bene, quando volo in aria ho delle sensazioni che non trovo da nessun'altra parte. Quando si prepara uno spettacolo per tanto tempo, quindi la fatica, lo stress, le crisi che si superano, che si affrontano. E poi andare in scena è una liberazione. Li ho avuti tutti insieme ai miei compagni, che per me sono diventati come una seconda famiglia. Senza di loro in realtà non so come avrei fatto. Consiglio di fidarsi di tutto quello che è l'Accademia Cataclop. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS